Eccoci qua allora per parlare di problematiche condominali, come vi avevo spiegato meglio, come ho detto all'inizio della nostra trasmissione, inauguriamo da oggi questa nostra nuova rubrica e ci avvarremo come sempre di un esperto che è qui accanto a me, ve lo vado a presentare, Maurizio Rasicci, titolare dell'RM Condomini. Buongiorno Rasicci. Buongiorno a tutti. Allora, problematiche dei condomini perché sono parecchi, io dicevo prima anche fuori onda, parlando con i nostri tecnici, che noi abbiamo questa rubrica che si chiama Studio legale, dove ogni volta viene un avvocato che dà dei consigli, risponde anche a delle domande che arrivano e ci confessava che una delle problematiche più grandi è proprio quella che si regista all'interno dei condomini, per cui insomma mi sa che non si è scelto un mestiere facile. Sicuramente no, però è un'attività, un mestiere che è affascinante, oltre che ci sono parecchie problematiche che però ci consente di stare a contatto quotidianamente con i clienti, gli utenti, oltre a parlare del problema del condominio, a volte si parla anche di altro. Per cui è un lavoro pesante ma molto affascinante, del resto come tutte le professioni che si fanno. Ogni volta, naturalmente noi in questa rubrica tutti i venerdì ci ritroveremo qui per parlare di qualche argomento e ogni volta tratteremo bene o male un argomento in particolare. Oggi l'argomento di cui volevamo parlare è questa contabilizzazione del calore. Che cos'è? Che significa? La contabilizzazione del calore riguarda essenzialmente tutti i fabbricanti orizzontali e verticali che hanno una centrale termica, questo nel rispetto della normativa europea. Il famoso 2020, l'accordo di Tokyo, rientra all'interno di questa categoria. In particolare, entro il 31-12-2016, tutti i fabbricanti che hanno un impianto centralizzato devono passare alla contabilizzazione del calore. Che significa la contabilizzazione del calore? La grande novità è questa, che mentre oggi il riscaldamento derivante dalla centrale termica viene pagata attraverso la tabella del riscaldamento, adesso con questo sistema ogni appartamento paga in funzione del proprio effettivo consumo. Esempio, se uno abita in un condominio ma per motivi di lavoro o per qualsiasi altro motivo nel periodo invernale si assenta, nel passato l'utente comunque doveva contribuire alle spese del riscaldamento. In questo modo, con la contabilizzazione del calore, quei mesi di assenza, chiudendo le varvole termostatiche che stanno montate sul termosifono, in pratica va a avere o a soffrire di un risparmio e questa è la prima cosa. Mentre oggi, quando noi accendiamo la cardaglia, intanto va detto che Civitavecchia in particolare, l'accensione del riscaldamento è dal 15 novembre al 31 marzo. Queste sono la fascia climatica che copre Civitavecchia. Che succede? Che la quota prevista dal bilancio preventivo riguardante il riscaldamento viene fissata a priori una determinata quota e quella tu la paghi per tutto l'anno. Invece, in questo modo, partendo sempre dal bilancio preventivo, i giorni di assenza che uno ha chiuso il radiatore non paga nulla, se non una percentuale indiretta che è per funzionamento della cardaglia stessa e per il calore disperso. Questa è la nuova novità. Per cui, a parte l'obbligo di legge entro il 31-12 di tutti i fabbricati che hanno l'impianto centralizzato che devono fare questa messa a norma, con dei costi non eccessivamente alti. Bisogna considerare che lo Stato e il Governo ha previsto, proprio per incentivare e per non far pesare troppo sulle famiglie, ha previsto lo sgravo fiscale del 50%. Per il condominio? Per il condominio, ma di conseguenza per il singolo utente che fa la trasformazione. Quindi è possibile anche un risparmio su tutto questo? Per questo per l'installazione della varvola termostatica del lettore che è posto sul termosifone, c'è questo sgravo fiscale. Dalle esperienze maturate in questo periodo, possiamo dire che alla fine del primo anno di riscaldamento con la contabilizzazione, il condomino va a risparmiare un 15% circa. Poi ovviamente che succede come tutte le cose? Questo dà la possibilità al condomino di utilizzare l'impianto, il proprio impianto, come che fosse un impianto autonomo, perché la fascia oraria si può ampliare e all'interno di questa fascia oraria, se tu apri le varvole termostatiche, soffrici del riscaldamento. Questa è la novità più... Molto interessante, anche perché io ho un impianto centralizzato, quindi la cosa mi interessa proprio anche personalmente, però volevo chiederle perché una serie di cose appunto su questa questione, quindi se ho ben capito, per esempio uno se ne va per le vacanze di Natale, chiude tutti i termosifoni e di conseguenza per quel periodo non paga, perché non ha consumato. Ma come si misura? C'è quindi un termostato? Allora, parlavamo di varvole elettrostatiche, di termofarvola che sta apposta sull'ingresso del termosifone, questa varvola è graduata e regola il flusso di acqua calda che entra e sopra sul termosifone c'è un letturino che conta gli scatti, a fine della stagione termica senza che entrare dentro l'appartamento viene rilevato il consumo, passa l'operatore e rilieva, perché questo è un sistema radio, rileva quanto uno ha consumato. O che succede? Che in pratica può essere rilevato per ogni ambiente, per ogni stanza dell'appartamento quanto uno ha consumato. Anche per ogni stanza si può fare. Anche per ogni stanza. E che succede? Così nasceranno sicuramente un po' di conflitti all'interno della famiglia, però diciamo che solitamente viene utilizzato in modo molto che poi gli rifreguenta la cucina, la sala, eccetera. Per cui può disporre anche quale ambiente riscaldare prima e quali dopo. Questa è la novità. E a fine della stagione termica, che appunto dicevamo che è il 15 di novembre, il 31 marzo, finita la stagione, passa l'operatore, fa il rilievo e fa tutti i conteggi che vengono poi trasferiti all'amministratore per fare il piano di riparto. Senta, quindi alla fine, se io decido, perché mi diceva, può funzionare alla fine quasi come un impianto autonomo. Nel senso che se io voglio decidere di spegnere perché ho caldo, spengo e quindi risparmio. Quindi di conseguenza io vado a pagare esattamente per quello che consumo. Ogni condomino va a pagare esattamente per quello che consuma. Perfetto. Va detto questo, che su 100 c'è una percentuale che continuerà a essere ripartita per la tabella di proprietà in caso di mancanza della tabella del riscaldamento. Per cui c'è una quota che non è determinabile. Adesso è uscita fuori una normativa, però non tutti la stanno applicando. In pratica prima di mettere le varvole bisognerebbe fare una diagnosi energetica del fabbricato. Perché lo prevede la norma 1.10.200 e stabilisce quelli che sono i valori del consumo volontario e quelli che sono i valori del consumo involontario. C'è questa distinzione tra volontario e involontario. Diciamo, volontario che cos'è? Il volontario è in pratica il consumo effettivo, l'energia prodotta effettivamente dalla gardaglia che arriva al radiatore. Per cui con questo lettorino quello è il consumo volontario. Mentre quello involontario sono l'energia elettrica per mandare alla gardaglia, il manutentore della gardaglia è la perdita di calore lungo le tubazioni di distribuzione. In un fabbricato che ha la gardaglia posta nel locale, ma distante, una stecca di 70 metri, un fabbricato orizzontale di 70 metri ha la gardaglia da una parte intestata al fabbricato. È ovvio che per quando arriva all'ultimo appartamento c'è una dispersione di calore lungo le tubazioni. Questa dispersione di calore deve essere carpolata da un professionista in modo tale che determina poi il valore da distribuire a tutti i condomini. Ho un'altra domanda, perché come ci spiegava anche adesso, nel senso che poi ci sono le tubazioni principali per quello che riguarda un impianto, parliamo di un impianto centralizzato ovviamente all'interno di un condominio, che portano il calore a tutti gli appartamenti. Poniamo il caso che all'interno del mio appartamento passino questi due tubi grossi, o tre, quattro, non so quanti siano, che portano poi l'acqua che viene distribuita a tutti i radiatori di tutti gli appartamenti. È evidente che se magari passano all'interno del mio appartamento, io magari ho più possibilità di spegnere i radiatori perché già mi passano quelli che già mi scaldano di suo. Allora, diciamo in verità è così ma in modo relativo. Che succede? Che intanto vanno distinti la parte impiantistica. Noi possiamo avere un riscaldamento che ha colonne, un riscaldamento che ha anello, perlomeno per gli impianti che hanno fabbricati, che sono stati realizzati negli anni 70, 80 e poi. Perché quelle di recente costruzione già sono dotati di questo sistema. Se sono impianti realizzati a colonna, per cui ci saranno varie colonne che interessano tutti gli appartamenti. Le due colonne mandate ritorno che passa all'interno del muro perimetrale del suo appartamento, poi passa anche su quello sopra di me, eccetera, eccetera. Per cui questa osservazione che faceva sarà trattata da un argomento, a mio avviso, a parte che è quello del distacco del riscaldamento. Perché proprio in funzione di questo vanno vanno fatte delle considerazioni in modo specifico. Attualmente per quelle che sono le esperienze e anche da quello che mi riferisce il nostro conduttore, i condomini che hanno adottato questo sistema hanno trovato un riscontro positivo nella particolarità riguardante proprio all'uso, all'utilizzo dell'impianto. Perché una coppia giovani rispetto a una coppia anziana hanno esigenze diverse. Il giovane rientra alla sera e probabilmente ha poco bisogno di riscaldamento. La persona anziana che inizia, quando comincia a fare freddo, comincia a fare le telefonate dicendo ma non accendi il riscaldamento, eccetera, eccetera. Questo sarà superato. Non ci sarà più questo aspetto di andare a modulare in continuazione l'impianto di riscaldamento. Perché si stabilisce in assemblea la fascia che è più ampia di quella del passato. E poi ognuno se la gestisce come vuole. Perfetto. A quel punto la persona anziana che sta all'interno dell'appartamento o il disabile o quello malato che sta all'interno dell'appartamento, in questo modo riesce a soddisfare le proprie esigenze. Va detta anche una... come del resto tutte le cose. Va fatta attenzione in particolare che se uno lascia le varvole termostatiche aperte è ovvio che andrà a spendere molto di più. Certo. Per cui l'accortezza qual è? Quella di monitorare le varvole che sono sul termosifone, sul calorifero. Oh, un'ultima domanda. Però tutto questo ovviamente non cambia il periodo in cui si possono accendere i termosifoni all'interno del condominio, cioè vale sempre dal 15 novembre... Perfetto. La fascia di climatica rimane quella. Cambia però la modulazione delle ore. Con questo sistema, ci vediamo che come dicevamo prima, sono le 8 ore, all'omiera 10 ore, così come Tolfa. che succede? Che in questo modo può, in caso di... che faccia molto freddo, si può continuare a superare, è consentito di superare la fascia oraria delle 8 ore. Perché oggi se comunque è un freddo un po' persistente, tu quando sei arrivato al massimo 8 ore devi... Certo, devi chiedere e basta. Invece questo dà la possibilità di avere più a disposizione più ore. Infatti ci sono degli impianti, dove abbiamo fatto già gli interventi, che gli diamo la disponibilità dell'impianto dalle 6 della mattina alle 22. Oh, per chi volesse saperne di più, si può rivolgere naturalmente a voi. Perfetto. Dove, come, quando e perché. Ci può contattare al... Lo possiamo vedere credo anche dal monitore, comunque insomma è tanto, eccolo qua. Perfetto, l'ufficio, gli uffici presso via Benedetto Blasi, siamo sempre reperibili, o arcellulare 328-06-20-504. Che vuol dire sempre reperibili? Allora, diciamo che questo è un... Perfetto, bisogna dormire la notte, voglio dire. Ecco, prima mi ha fatto una domanda, diceva, certo che fai un'attività così, è molto dispendiosa, però ti arricchisce, non economicamente, ma sicuramente d'esperienza, se questo è vero. Diciamo che cerchiamo di dare il massimo del servizio ai nostri clienti, perché le persone che chiamano non sono solitamente giovani che riesce, voglio di accavarsela con poco, ma gli anziani, che quelli veramente quando ti chiamano è perché hanno un problema. Vero, è infatti. Vero o non vero, però a volte ti chiamano perché a volte succede che ti chiamano che il figlio è lontano, che non c'è nessuno, in quelle situazioni bisogna... Quindi reperibili 24 ore su 24, praticamente. Diciamo che dopo le 22 non c'è più nessuno. Perché dormono anche loro, giustamente. A me ne succede, non succede. Un'anatrio proprio al giorno di Pasqua, tranquilla al ristorante, vedo una chiamata, non me ne ho raccolto, c'era un po' di confusione, e vedo una chiamata alle 15 del giorno, perché c'era un problema però oggettivo, c'era una perdita e veniva danneggiato l'appartamento, l'inquilino sovrastante non era riperibile, e ci siamo, insomma. Le persone poi ti devono comunque parlare, ti devono dare... E' proprio anche un rapporto umano che si viene a creare, molto bello questo effettivamente. Allora, se volete, se avete bisogno, anche a Natale, a Pasqua, a Ferragosto, c'è lo studio associato RM di Maurizio Rosicci e Monica Muneroni, che potete trovare in via Blasi 8, tutti i giorni, 24 ore su 24, o anche a Dallumiere, in via Le Garibaldi 30, a Santa Marinella, in via Cicerone 5, a Tolfa, in via Roma 172, a Roma, in via Felice 101. Ma siete dappertutto proprio! Diciamo che noi siamo un team abbastanza organizzato, anche perché questa è un'attività professionale, se la fai in un certo modo ti dà soddisfazione in tutti i sensi, e per fare questo bisogna che hai il personale. Noi siamo in sei dipendenti e ognuno si occupa del... c'è Donatella che si occupa della parte dei lavori, Ilaria con Patrizio dalla parte inerente alla contabilità, Monica fa il manager, fa bilanci, Luana, che è mia moglie, si occupa della segreteria, e io faccio questo, insomma. La viene in televisione a fare pubblicità. Perché serve. È certo che serve. Bene, grazie davvero a Maurizio Rasicci. Io ricordo soltanto ancora un'ultima informazione, che naturalmente potete scrivere anche attraverso internet alla RM Amministrazioni Condomini, ovvero alla email info.studio.rmcondomini.it. Abbiamo credo davvero detto tutto. Grazie ancora a Maurizio Rasicci per essere stati conosciuti. Vi vediamo venerdì prossimo. Venerdì prossimo, con altro argomento.